Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno trovato l'accordo sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027 che, nelle intenzioni, dovrebbe spianare la strada alla ripresa dell'economia. Tra gli investimenti prioritari per i Paesi membri ci saranno quelli per la salute, lo sviluppo digitale, la lotta ai cambiamenti climatici. 15 miliardi di euro saranno indirizzati verso alcuni dei programmi più noti dell'Unione. Horizon EU ottiene 4 miliardi in più, triplicata la somma a disposizione di EU4Earth, mantenuto il programma di scambio culturale universitario Erasmus+. L'accordo pone fine ad aspre trattative, iniziate più di due mesi fa tra Parlamento europeo e di 27 Stati membri, per i quali migliora i programmi di istruzione e ricerca e pone maggiore enfasi su cambiamenti climatici e politiche ambientali. Il tutto dovrà essere ratificato dall'intero Parlamento, ma anche da tutti i Paesi all'unanimità ed a tal proposito problemi potrebbero arrivare dall'Ungheria, che minaccia di porreveti al bilancio.